Vedete, molte volte più sono ricchi e più sono degli accattoni. Mi riferisco ai tirchi, ai tirchi di casa, quelli che controllano la famiglia attraverso i soldi. Quegli uomini o qualche volta quelle donne che sotto ricatto del danaro gestiscono il potere familiare. Dovete sapere che anche un tirchio può essere in qualche modo condannato penalmente per maltrattamenti. Si chiama violenza economica. Il fatto di far venire meno le comodità, i diritti basilari ai propri familiari o perché c'è una tirchieria di fondo, perché c'è un ricatto economico, questo costituisce un grave illecito. Morale, penale e civile. Quindi attenzione ai tirchi e attenzione a coloro i quali, pur non essendo tirchi, cercano di gestire l'economia familiare come grimaldello, come potere di ricatto nei confronti di moglie e figli o qualche volta marito.